buongiorno pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono i miei video e gli short così mi aiutano a diventare un po più visibile e magari fammi sentire un po di più allora devo tornare sulla questione perché purtroppo non è una questione che si è risolta sulle lavorazioni mancate allora l'inps adesso sta scaricando il problema sulla mancata ricezione di risposte da parti di comuni regioni e prefetture per cui dicono non arrivano risposte da loro noi non possiamo procedere ora detto che una scusa infantile sempre lo scaricabarile classico ma chi è che ha permesso queste strutture di lavorare così lentamente il ministro orlando quando ha deciso che avevano tempo quattro mesi per rispondere alle richieste di controlli dell'inps di fatto ha imballato tutta la macchina e figuriamoci se l'inps che già è lenta di suono ci si è infilata dentro decidendo di fare le cose all'ultimo momento e a cascata gli stessi comuni regioni e prefetture stanno facendo le cose all'ultimo momento riducendo anche la vostra possibilità poi a fronte di loro errori o di sbaglio di imprecisioni andare alla contestazione perché questo allunga ulteriormente i tempi ora io non sono diciamo non sono un sospettoso però a pensare male si fa peccato più delle volte ci si azzecca diciamo che in questo periodo questa situazione sta diventando effettivamente drammatica e non c'era ancora il governo della meloni ma l'andazza era quello io adesso non so se l'inps per così dire si è portata avanti a lisciar scarpe per non dire peggio ma il dubbio ti viene perché mi sembra che le martellate arrivi in una direzione ben precisa soprattutto verso gli under 30 oppure verso le persone che diciamo hanno sbagliato a scrivere una virgola perché veramente alcuni di questi controlli sono fatti su persone perfettamente a posto e non si capisce il perché essendo a posto devi tirarla così alla lunga cioè vedi che è tutto in ordine gli mandi la risposta e chiudi il problema invece si allunga tutto e a cascata si allungano anche gli assegni unici supercettori radici ora se voi lo ricevete in posta fatto bene a non farlo notare uno di voi andate a controllare in posta perché magari c'è e non vi è arrivata la comunicazione soprattutto se non avete lo speed magari non lo vedete ma se lo ricevete sulla carta il problema rimane ecco dovete controllare per forza se c'è sulla carta come dovrete fare per quelli che riceveranno il bonus 150 euro che teoricamente dovrebbe arrivare a tutti lo stesso giorno cioè dopo le ricariche ordinarie di novembre ma vista l'esperienza precedente relativa al bonus 200 a causa dei controlli necessari per vedere se doveva andare sulla carta oppure se poteva andare su altre soluzioni ricordatevi sulla carta va soltanto se non ci sono altre tipologie di lavoro di pensione o altro su cui può essere mandata un pensionato che prende la pdc o la rdc va sulla pensione non va sulle pdc o la rdc dicevo questo crea comunque un sistema a cascata che rallenta tutto in merito poi alle ultime uscite sulle ultime ipotesi di lavoro relative alla rdc io ve ne parlo un po più profonditamente dopo in un altro rospezione quello che vi posso dire che e lo ribadisco finché non c'è ingazzato ufficiale qualcosa sono tutte parole ed è lo stesso discorso che insisto a fare in merito al bonus 150 euro a dicembre perché finora sono solo ipotesi cavate dai giornali l'attendibili dei giornali italiani ormai è pari a quella di renzi quindi zero per cui come non posso dirvi sicuramente ci sarà cosa dovete fare cosa non dovete fare perché di fatto vi racconterei delle panzane perché non lo so io non lo sa chi l'ha scritto ma soprattutto non si sa se ci sono perché il problema fondante in queste cose che sono sempre i soldi e se di soldi non ce ne sono queste cose non le puoi fare ciao a tutti